Salve amici, vi volevo presentare questo bellissimo prodotto della GADR, è un prodotto senza fili, è un idropulsore orale e rivela nella sua elegantissima borsetta, dentro troverete cinque accessori, dopo l'uno già l'ha montato, questa è la sua confezione, quanto vi attiverà, vi arriverà smontato in questo modo, questo è il suo bicchiere, che andiamo a mettere, lo chiudiamo, facilissimo, semplicissimo, lo mettete nella prossetta, in questo modo, che avete finito, quindi i miei accessori, e ve lo portate dove volete, senza filo, senza niente, la sua dicarica dura circa un mese, se la utilizzate tre, quattro volte al giorno, questo è tutto, tutto quello che praticamente è l'intropulsore, è potente, non costa molto, un euro dal B, che forse 60-70 euro, questo si chiama GADR, lo trovate su Amazon, adesso io lo trovo per voi, ci togliamo dalla confezione, lo chiudiamo, quindi questo coperchio qui all'altimo è diventato un bicchiere, dove, tirando questa levetta, uscirà fuori un piccino, un metallo, questo lo riempite d'acqua, in questo modo, è già pronta all'utilizzo, vedete, è già pronta all'utilizzo, l'oggello, una volta che voi lo montate, facilissimo, e si rimonta, ed è finito, lo preparate, lo puntate in bocca, verso i denti, direzione denti e gengive, a queste quattro funzioni, andiamo a vedere subito come si chiamano queste funzioni, la prima funzione si chiama NORMAL, accediamo da questo tasto, cliccando, il tasto è gommoso, molto bello da toccare anche, si accede alla lucina, un primo segnale che dà, abbiamo la funzione NORMAL, al secondo segnale troviamo la funzione SOFT, al terzo segnale troviamo la funzione PULSE, al quarto segnale troviamo la funzione SINUS, lo accendiamo alla funzione NORMAL, SINUS, è molto potente, devo dire che è molto potente, passiamo alla funzione SON, qui ti piace anche il tumore, che si è ovviene, passiamo alla funzione PULSE, è toccida, e infine alla funzione sinusa. Quasi spegne, abbiamo la possibilità di utilizzarla del naso, cambiando la porchetta del naso e ciò che è fatto. Il calicatore, togliete questo tappetto qui, quando lo potete canticare, vedete l'alimentatore, è sprovvisto di presa, quindi dovete trattare buona presa. Questo si carica circa 2 orette, è carico tutto. Una volta che è tutto carico, lo potete usare almeno per 10 giorni, anche un mese, che è uno dei tre ogelli. Ecco fatto. Lo potete anche conservare così. Comunque, non c'è bisogno di smontare. Anche per chiudere. Lo potete anche tranquillamente chiudere la pasta. lo suo bicchiere, con tutto lo ce l'ho montato. In questo modo. Diventerà di alto. Lo potete montarlo in giro, se non vuole. Se ti stava rompendo. C'è carico. Il prodotto si chiama GDR, costa 34 euro, su amaro, generato con l'albino, cosa che sa. Senza fili, portabile, potente. La pastica è molto resistente. Sembra un buon prodotto di utilizzato. Spero di aver fatto contento qualcuno per sapere le recensioni e vi invito a seguirli sul canale per altre dimensioni. Ciao a tutti e grazie.